E benvenuti a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video In questo video qua come te l'avete detto In questo video della miniatura vi farò vedere la fase 1 di 5 della missione leggendaria Intanto vi voglio ricordare che oggi è il primo giorno della season E che è uscita e appunto hanno fatto anche un video del pass battle Cioè oggi quando saremo il primo giorno della season Ma arriveranno nei prossimi giorni tutti i video delle missioni leggendarie Comunque questa qua del genesis bunker La fase 1 Conversa con Sunny, Abstract, Fiore del Sogno, Rivolta o Difensore dei Boschi Da 45.000 XP I punti dove si possono trovare sono appunto questi qua Qua dove sono io O qua sotto Poi qui Vi sto mettendo Quindi la corso Nel ponte tra Brughiere e Gatto Grill Qui nel lago accanto a Siepi A Cala Credente Che appunto era Diciamo la classica sabbia E poi Qua diciamo vicino a questo Io allora Io sono qua a Cala Credente Vi faccio vedere uno degli NPC con cui interagisco Che è Sunny Infatti ora se vado no Non è se vado qua Sta 2 su 3 Vabbè Quindi Dovevi andare in altri posti Completate tutto E prima la completa andrò alla fase 2 Se vi lo vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Non perdetevi anche gli altri video Che arriveranno Nei prossimi giorni E quando vi date il video A tutti i vostri amici Passate per il link in descrizione Andate a me a seguire Su tutti i miei altri social Da me è tutto Ci vediamo nel prossimo video E bella